Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un individuo di nazionalità marocchina del 1968 per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha rifiutato di farsi identificare dagli agenti, reagendo violentemente al controllo effettuato, ingaggiando una colluttazione con la pattuglia in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo. Nel corso dell'attività uno degli agenti ha riportato delle lievi contusioni. Il cinquantenne è risultato irregolare sul territorio e con precedenti penali. Per lui è stata avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno e già inottemperante all'ordine di allontanarsi dall'Italia.